Sì, perché io ho un passato da segretario di un sindacato, quindi l'ho trattata parecchio questa questione. Penso che c'è tutta una generazione che è stata presa in giro. Sono completamente distante rispetto a quello che abbiamo parlato adesso, sono contro la Fornero perché ha bloccato completamente la possibilità di fare nuove assunzioni. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza è una cosa assurda perché di fatto hai fatto in maniera tale che la gente non abbia voglia di andare a lavorare, hai creato problemi alle attività, alle aziende perché non trovano le persone anche disponibili ad andare a lavorare e poi c'è il passaggio più importante. La nostra generazione, forse dalla mia in giù, gli si raccontava che una persona per lavorare in Italia doveva studiare, doveva professionalizzarsi e grazie alla sua professionalità poteva vendersela per avere uno stipendio che era corteggiato dagli imprenditori che volevano puntare su questa professionalità. In realtà con stage, il famoso stage, si sono approfittati di questi ragazzi che studiavano fino a tarda età, entravano nel mondo del lavoro e venivano adoperati con stipendi bassissimi e quindi trattati malissimo. Per forza i giovani sono scappati via dall'Italia perché non avevano quello che gli era stato prospettato con il percorso formativo e quindi c'è tutta una balla sui giovani che dovevano puntare sui giovani, far crescere i giovani, puntiamo sui giovani che non è vero nulla. Il Veneto è vero che il tasso è più basso ma è anche vero che comunque un 4% in un Veneto così produttivo è una percentuale molto elevata, è molto elevata, non dovrebbe esserci. Questo sto dicendo. E poi ancora peggio sulle donne, ma ancora peggio sulle donne e ogni anno io sono lì che mi guardo tutti gli interventi che erano fatti per difendere le donne, le donne in difese che vengono uccise e tutto il resto, ma nessuno parla del lavoro delle donne. Cioè una ragazza che studia, due sono le cose, o continua a studiare e non fa famiglia o lavorare, va bene, o altrimenti appena esce fuori dal mercato del lavoro non rientra più. E ci sono donne di 40, 50 anni che non trovano lavoro. Ma il motivo qual è? Perché sono andate fuori dal lavoro, perché serve una legge italiana che vada a difendere questa cosa, difendere le donne sole sul lavoro, cercare gli sgravi, perché un imprenditore, ma perché deve prendersi una donna? Allora parliamo tanto di fare figli, di fare famiglie, di cercare... e poi viene fuori sempre la balla che dobbiamo tirare fuori le persone che vengono da altri paesi, perché se in altri menti non c'è lavoro. Perché noi non facciamo figli? Ma chi è che va a far figli? Il rapporto mio, ad esempio, alla mia generazione è due a uno, cioè nel senso un figlio forse, perché due voleva dire veramente pensare di non essere in grado di creargli un futuro a questo ragazzo, perché noi siamo quelli che sono stati presi in giro. Io farei una bella riflessione su questo.